Quanto è sicura la chirurgia refrattiva laser? Ora, è una domanda che spessissimo mi pongo nei pazienti, come è naturale che sia, sarei io il primo a porla al mio chirurgo oculista e la mia risposta è più o meno sempre la medesima, ovvero statistica alla mano, tra l'altro noi siamo tra i pochi centri oculistici in Italia a pubblicare in letteratura le nostre statistiche, siamo nell'ordine del 99,9%, quindi il cento per cento per definizione non può appartenere alla medicina, solo un cialtrone potrebbe parlare di cento per cento, però possiamo ragionevolmente parlare del 99,9%, è un po' come prendere un aereo che vada da Milano a Roma, nessuna compagnia potrà garantirvi il cento per cento di successo, però il 99,9% per cento sì, quindi direi che di questo stiamo parlando. I rischi, lo abbiamo detto tante volte, sono fondamentalmente due, uno è un'imperfetta correzione del difetto visivo perché talvolta fattori individuali di cicatrizzazione e rimodellamento epiteliale possono giocare una piccola componente, parliamo mediamente di difetti residui dell'ordine di mezza, una diottria, voi pensate che una diottria si traduce in 15-16 micron di tessuto che sono un decimo dello spessore di un capello, per cui capite bene l'ordine di piccolezza di cui stiamo parlando, in questo caso nessun problema, con un piccolo ritocco laser si può facilmente andare a correggere anche questo piccolo difetto residuo. Il secondo rischio della chirurgia refrattiva, seppur molto 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 remoto, quasi prossimo allo zero, ma certamente non zero, è quello di un'infezione come qualsiasi intervento chirurgico. Ora, l'occhio ha il grosso vantaggio di guarire in poche ore, per cui è sufficiente buon senso post-operatorio, non toccacciarsi gli occhi appena operati, mettere le goccine dal giorno dopo, come raccomandato. Insomma, una buona igiene e cultura aiuta, fa la parte del leone nella gestione di questo. Ma quanto è questa incidenza di infezioni? Ebbene, un bellissimo studio pubblicato da un mio caro amico, tra l'altro americano, su una delle più prestigiosi riviste di oculistica, Aaron Waite, ci dice che questo rischio è paragonabile all'utilizzo di un anno di lenti a contatto. Per cui, utilizzando le lenti a contatto per un anno, abbiamo un certo piccolo rischio di sviluppare un'infezione. E' cosa nota nei pazienti che portano le lenti a contatto che possono dare talvolta noia, sebbene non infezione. Raramente può infettarsi l'occhio. Ebbene, questa frequenza di infezione è esattamente paragonabile, ci dice lo studio di Waite, rispetto a paragonabile alla LASIK. C'è tuttavia un grosso particolare da tenere in considerazione, che la LASIK viene fatta una volta nella vita, mentre le lenti a contatto vengono portate per una vita, vengono portate per 20, 30, 40 anni. Per cui, l'incidenza di rischio della lente a contatto, per quanto piccolo, va moltiplicato per 40 anni, più o meno. Per cui, c'è un rapporto di circa 1 a 30, 1 a 40, tra il rischio di sviluppare un'infezione con la lente a contatto, piuttosto che con la chirurgia refrattiva laser. Per cui, possiamo ancora una volta sottolineare come la chirurgia refrattiva sia nettamente più sicura rispetto che l'utilizzo di lenti a contatto. Per non parlare della qualità visiva, che abbiamo già definito in altri video, essere nettamente superiore rispetto all'utilizzo degli occhiali e delle lenti a contatto. Per cui, abbiamo una ragionevole certezza di risultato che è data non tanto dall'abilità del chirurgo, che sta più che altro nella selezione preoperatoria, ma è data dalla robotizzazione di questa chirurgia, perché viene di fatto eseguita da robot laser, e non sbagliano. Quello che gli si dice fanno è in maniera estremamente soddisfacente.